Mister Nidiani, alla fine del match l'abbiamo vista lanciare i cuori, è veramente scatenato. Sì, oggi ci stava perché era strafondamentale per noi questa partita e poi per come si era messa nell'intervallo. Siamo stati bravi più del solito e quando la squadra è più brava del solito mi entusiasmo di più. E poi, ripeto, per l'importanza della gara, sei giornate dalla fine, questa vittoria qui credo sia molto, molto, molto importante. Ancora una volta è venuto fuori il gran carattere di questa squadra. Certo, questo dicevo prima a lei, nell'intervallo, insomma, detto che bisognava dare un po' di più, siamo stati bravi. Non era facile, non era facile andando a riposo di svantaggio e ribaltarla bene, insomma. Non era facile. Ha avuto qualche brutto pensiero nell'intervallo? Mi stai, c'era stata la sosta, no? Il timore che ci fosse qualche scoria oppure no? No, il brutto pensiero è che avevo la prima mezz'ora della partita, quando tutte le palle inattive, insomma, tutte le mezze situazioni e potevamo fare gol una volta il portiere, una volta la corta, una volta la lunga. E alla prima palla ferma loro, mi hanno fatto gol. Tu temi, no? Sempre l'imponderabile, dici, mamma mia, oggi, però poi la lunga, la lunga, ecco, ragazzi, hanno dimostrato per l'ennesima volta e sono bravi, hanno adattere la lunga servista, a differenza di la sigla che hanno e loro. È una vittoria, mister, che oggettivamente, insomma, avvicina molto il traguardo e, insomma, adesso come si gestisce questa situazione? Se c'è da gestirla o soltanto da viverla a cuore aperto, insomma? No, ripeto, è che, come dissi ieri, no? Questa qui e quella giovedì per me erano le vere finali. Come dissi, se ce la facevamo a vincere entrambe, eravamo a buon punto. Una l'abbiamo fatta, bisogna vedere di vincere anche l'altra. È chiaro che questa poi è in campo neutro, ma, cioè, continuo a ripetere, non è stato un vantaggio per noi, credetemi. Solamente le dimensioni di campo, 6 metri più piccole, sto io, rispetto a dove mi immaginate. Per noi, come ci conoscete, per noi è strafondamentale. E' strafondamentale, avevo molta, molta, come si dice, paura no, ma timore invece poi è la lunga. Ecco perché c'è più soddisfazione mai. Vi rilascio la prima domanda, però, visto insomma, un indiani che esulta in quel modo, non l'abbiamo mai visto. Insomma, che emozione è stata anche per noi? Ma, ripeto, perché era un sindaco talmente importante, talmente fondamentale, se ce la fai a rimediarla dopo essere stato sotto, dopo che magari in primo tempo ti diceva mamma mia, oggi non ci si fa, ce la fai a ripartarla, devi entusiasmarti, devi gioire, di solito. Domani la guarda, la Pianese? Non credo, no, domattina abbiamo allenamento, poi vado a casa un giorno perché poi ci vi è lunedì sera. No, no, assolutamente, assolutamente. Per un pensiero per i tifosi, un messaggio che sono rimasti fuori? Ecco, l'entusiasmo sono andato apposta, la rete da loro perché sono venuti anche non potendo vedere la partita, che vuol dire, vuol dire, bella ancora più per loro. Ecco, sono tornato a casa più contenti di mai, anche se non l'hanno potuto vedere, però, vedere un gruppo che trova il verso da che la Piazza è una parte per poterti aiutare in qualche maniera, è una cosa straordinaria. Fabio Foglia, uno dei grandi protagonisti di questo match, Fabio, una vittoria veramente fondamentale, importantissima, a questo punto possiamo dire che il traguardo è vicinissimo. Il traguardo è più vicino, però prima di parlare della partita, come squadra ci tenevamo a ringraziare i nostri tifosi perché quello che hanno fatto oggi penso sia una cosa fantastica, incredibile, e ci hanno dato veramente una spinta in più, non ce l'aspettavamo, quindi un grazie veramente a loro. Sì, la partita è difficile, ma lo sapevamo, siamo stati bravissimi, bravi per come si era messa, per come si stava poi incanalando, però ci abbiamo sempre creduto, è un passo avanti verso quello che è il nostro obiettivo, però mancano cinque partite, dobbiamo sempre giocare così. Ti vedo emozionato, non so se per i tifosi, la vittoria, per che cosa? No, no, sono contento, sono contentissimo perché poteva essere, come dice il mister, un incidente in autostrada, invece siamo stati bravi a superarlo, quindi siamo veramente contenti. Ti chiedo, l'ho chiesto anche al mister, se ti è venuto qualche brutto pensiero all'intervallo, una partita che avevi giocato sempre all'attacco, primo tiro in porta, prende gol, magari poteva essere una giornata storta, oppure eri convinto che l'avresti ribaltata? No, ci siamo parlati nello spogliatore, eravamo tutti convinti, facce su, facce cariche, quindi diciamo ci ha dato quella spinta in più, vedere tutti convinti di comunque poterla ribaltare, poi penso che l'abbiamo anche meritata per tutta la partita, io conto uno, due, tiro in porta a loro, poi delle mischi, ma penso la partita l'abbiamo fatta noi e quindi è una vittoria meritata. Mi racconti la giocata sul gol di Gucci, perché lì gli hai fatto un assist e poi lui ci ha messo del suo, ma insomma quella era una bella palla messa dentro l'aria. Sì, sì, lui me le chiede spesso, poi ogni tanto riesco, ogni tanto no, però devo dire che ha fatto una roba da attaccante vero, come lui è, anche di categorie superiori, quindi sono contentissimo perché è stata una palla insieme alla sua giocata che ha portato al pareggio e poi c'è stata quella spinta per riuscire a vincerla. Chiado, per quello che è stato il tuo passato, insomma la faccia della scaramanzia, ormai possiamo anche parlarne cosa significherebbe per te vincere un campionato di Serie D qui ad Arezzo. Tanto, tanto, non mi nascondo che sono tornato anche per questo, perché comunque sono legato a questa piazza, a questi colori, alla città, ai tifosi, quindi continuiamo così, poi quando sarà, speriamo presto ne riparleremo.